L'appuntamento del ciclo di conferenza è uscire dal caos organizzato dalla Middle East Mediterranean non sappiamo veramente se è possibile uscire dal caos, vedremo anche questa sera con la signora del ponte che cosa ci racconta della Siria, sicuramente se ci puntiamo la nostra attenzione sulla Siria non ci facciamo l'idea che sia possibile uscire dal caos e nemmeno leggendo il libro della signora del ponte sono molto lieta di ospitare Carla del ponte qui questa sera, la ringrazio moltissimo anche a nome del rettore di aver accettato il nostro invito e presenteremo e parleremo, dialogheremo un po' insieme di questo ultimo libro che ha pubblicato che si intitola Gli impuniti, i crimini in Siria e la mia lotta per la verità ovviamente già dal titolo ci viene suggerito che i crimini e i criminali della guerra della Siria non sono stati puniti, restano impuniti e quindi c'è ancora molto da fare sono anche felice di ospitare, di accogliere Margherita Crepax della casa editrice Sperling e Kufer che è appunto la casa editrice che ha pubblicato in italiano la versione, appunto la traduzione italiana del libro perché all'origine è in tedesco, quindi l'originale è in tedesco e quindi darei prima di tutto prima che ora di presentare la signora del ponte che conoscete tutti ma spenderò qualche parola per presentarla volevo chiedere appunto a Margherita Crepax come mai hanno deciso di pubblicare e di tradurre il libro della signora del ponte grazie, io ho fatto una riflessione sul mondo dell'editoria proprio a proposito del libro di Carla del Ponte il libro La caccia di Carla del Ponte era stato pubblicato da Feltrinelli un'altra casa editrice molto ben distribuita, con un marchio importante e anche con una coloritura anche politica e un segnale di impegno la nostra casa editrice fa parte invece del gruppo Mondadori e Sperling Kupfer esiste da 120 anni, festeggiamo in giugno i 120 anni di questa casa editrice che è nata in Germania e dopo pochi anni si è trasferita a Milano vedendo insomma nell'enorme catalogo del gruppo Mondadori e anche della Sperling libri di tutti i tipi che hanno come filo conduttore il desiderio di rispondere prontamente al bisogno di un pubblico ampio e non necessariamente equipaggiato sugli argomenti che invece diventano importanti nell'attualità. Quindi io credo che la bellissima scelta che mi rende veramente fiera di lavorare per la Sperling di pubblicare il libro di Carla del Ponte rientri in questo cioè la casa editrice deve avere dei titoli che richiamano l'attenzione di un pubblico allenato, abituato a vedere in questo marchio una risposta, un marchio che offre delle risposte pronte a portare a questo pubblico l'attenzione su un tema così complesso, così difficile come quello di una guerra che ha comportato, come si legge nel libro, delle torture e delle sofferenze indescrivibili. Quindi per me promuovere questo libro è stato un motivo di orgoglio. Nel momento in cui ho conosciuto personalmente Carla del Ponte è stato anche qualcosa di più perché lavorare con Carla del Ponte è come entrare però allegramente e energicamente in un campo di battaglia dove tutti noi ci rendiamo improvvisamente conto una novità anche nella vita di ciascuno di poter fare qualcosa e che comunque ci sono delle energie che possiamo liberare per poter fare qualcosa. Quindi sono stata ancora più contenta e anche piuttosto emozionata devo dire perché sono sensazioni che emozionano quelle di poter fare qualcosa. Allora perché un libro così in realtà serio, specifico, combattivo esce per una casa editrice che pubblica anche libri sulle diete, che pubblica libri sulla politica italiana, che pubblica libri noi abbiamo pubblicato libri sulle stragi naziste di Sant'Anna, abbiamo pubblicato libri sulle torture di Mengele, abbiamo pubblicato libri quindi importanti su temi forti, però siamo anche una casa editrice di intrattenimento e io trovo che questo non è un contrasto ma è un buon segnale. Ci creiamo un pubblico vasto, attento, cerchiamo di renderlo, di fidelizzarlo come si usa dire adesso e poi lo portiamo a contatto con dei temi importantissimi. Spero di aver fatto bene il mio lavoro di promozione, il libro spero che il nostro ufficio, la filiera editoriale è complessissima, c'è un ufficio commerciale che deve occuparsi di rifornire sempre le librerie e c'è un ufficio che deve occuparsi di ristampare il libro, il libro è stato ristampato. Diciamo che ci sono gli uffici diritti che devono occuparsi di eventualmente essere pronti alla divulgazione anche in altre forme del libro e questo abbiamo invitato Carla del Ponte a un festival milanese, tipicamente milanese molto ramificato che è Book City. Carla ha dimostrato una grande prontezza, è venuta, è stata una bellissima conferenza e io non ho altro da dire e però devo ringraziarvi veramente tanto perché è un bellissimo folto pubblico in un contesto accademico ma anche aperto a tutti e vi ringrazio molto. Grazie mille appunto l'idea è anche un po' quella della piattaforma sul Medio Oriente Mediterraneo, quella di aprire anche le analisi accademiche, le analisi scientifiche anche a un pubblico più generale, cercare anche di portare su questi temi così importanti e così anche trascurati perché sicuramente sulla guerra in Siria molti persone, non soltanto le istituzioni di cui parla Carla del Ponte nel suo libro ma anche a livello di opinione pubblica per lungo tempo abbiamo cercato di non vedere quella guerra e individualmente cerchiamo di non vederla in qualche modo quindi è importante divulgare, in questo senso questo è un libro fondamentale perché porta appunto a un livello divulgativo tematiche che spesso restano troppo specialistiche o troppo confinate in alcuni contesti. Quindi brevemente introduco Carla del Ponte che è stata procuratrice generale della Confederazione Elvetica dal 94 al 98 e poi dal 99 al 2007 e poi ha iniziato a dedicarsi per il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA dei crimini di guerra e diciamo che in questo campo non si è fatta mancare niente perché è stata in Jugoslavia e in Rwanda e si è occupata appunto di queste due guerre molto molto importanti tra l'altro appunto soprattutto la guerra dell'ex Jugoslavia è ancora stata una guerra che ha riguardato l'Europa e quindi che c'è stata molto vicina e dal 2011 al 2017 dopo essere stata ambasciatrice a Buenos Aires è diventata appunto membro di questa commissione internazionale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite che era incaricata di indagare sulla violazione dei crimini dei diritti umani in Siria, nella guerra in Siria. Però forse sapete già la fine ma magari della fine parleremo dopo a un certo punto ha deciso di dimettersi da questa commissione e vedremo perché. Ma partirei proprio dall'inizio la prima domanda è perché ha deciso di scrivere questo libro? Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato anche se io dalla fine dell'anno ho deciso basta ho fatto, ho dato quello che dovevo dare e anche giusto siccome non sono più attiva neanche nella commissione smettere di parlare perché poi a un certo momento è più che sufficiente. Però lo faccio ancora per questo libro, lo faccio ancora per questo libro che è come ha ben detto è accessibile a tutti, è una storia facilmente accessibile a tutti e devo dire che la traduzione italiana è perfetta, è fin meglio che l'originale tedesco. Forse perché la mia madrelingua è italiana quindi mi tocca di più. Comunque quando l'ho letto veramente mi sono commossa io. Venetete conto, l'ho scritto io. Comunque, perché devo vendere questo libro? Devo vendere questo libro perché quando riceverò qualcosa, perché qualcosa devo pur ricevere alla fine io ho un'associazione non governativa a Beirut già da 4 anni che lavora e finanzio l'aiuto ai bambini siriani nella valle della Beca. La valle della Beca in Libano è tutta alla frontiera con la Siria e noi andavamo spesso lì, almeno due o tre volte all'anno, proprio per incontrare quelli che fuggivano nella valle della Beca per poter incontrare questi che dovevano lasciare il paese ed erano soprattutto le famiglie più povere. Le famiglie più povere che attraversano il confine arrivano nella valle della Beca e lì si fermano perché non hanno più i soldi per continuare il viaggio e lì ho visto la tragedia, ho visto la miseria, ho visto quello che non avrei mai immaginato di vedere ed è per quello che da allora ho cominciato a raccogliere dei fondi e la prima raccolta fondi l'abbiamo fatta tra di noi, membri della commissione, era il mese di novembre del 2013, 2012-2013, c'erano una trentina di bambini appena appena vestiti e aveva nevicato e c'era una maestra siriana con loro perché non c'è un vero campo rifugiati, non c'è un vero campo perché il Libano non vuole, quindi c'è un aiuto così che viene fatto un po' così. Comunque, questa maestra siriana dice non abbiamo neanche una scuola, non abbiamo neanche i libri, non abbiamo niente, questi bambini sono sulla piazza, sono in giro, così. E allora io dico ai miei collaboratori, i commissari, raccogliamo un po' di soldi che così facciamo qualcosa magari, no? E siamo riusciti a raccogliere mille dollari e glielo ho dati a questa maestra siriana. Quando siamo tornati dopo sei mesi c'era una scuola, c'era una baracca, c'era una tenda, però c'erano i banchi, c'era la lavagna, avevano dei libri e allora la maestra dice la capitale della Svizzera e un bambino alza la mano e dice Berna, no? Ecco, era fantastico come erano contenti questi bambini di poter andare a scuola. E da lì abbiamo cominciato, ho cominciato e continuo ancora adesso, infatti la presidente di questa organizzazione mi scrive e mi manda sempre, eccetera, quello che fanno, quello che non fanno, eccetera. Quindi è importantissimo, è una goccia, è una goccia, però è una goccia importante, soprattutto i bambini, perché è una gioventù traumatizzata dalla guerra. È tutta una gioventù traumatizzata dalla guerra, dei bambini di 2-3 anni che hanno perso i capelli, non crescono più i capelli perché sono spaventati dai bombardamenti che hanno subito. bambini che hanno perso le braccia o un piede, traumatizzati, quindi è una situazione veramente tragica, come non ho mai visto, neanche quando ero procuratore, ma in fondo quando ero procuratore io li vedevo, i testi li vedevo se andavo in aula, altrimenti io non vedevo la sofferenza. Quella l'ho vista, membro di questa commissione, ho capito cos'è la sofferenza di questa gente. Cos'era la domanda? Perché hai deciso di scrivere il libro? Ci ha dato una delle motivazioni, credo, possibili. Ecco, questa era una delle motivazioni, più che altro perché sono qui questa sera e ringrazio anche Margherita che mi ha invitato a Roma, abbiamo pubblicizzato il libro a Roma, è andato molto bene, poi a Milano, eccetera. Quindi va bene anche la vendita in italiano, la vendita in tedesco anche va bene e così io raccolgo i fondi per i miei bambini siriani. Io ho anche scritto il libro perché? Perché quando me ne sono andata, naturalmente avevo un peso al cuore, perché come procuratore generale del Tribunale internazionale, siamo riusciti ad ottenere un grande successo per la giustizia internazionale. Gli alti responsabili politici e militari dei crimini di guerra, crimini contro umanità e genocidio nella ex Jugoslavia sono stati tutti processati. 161 alti responsabili politici e militari. Boh, il Presidente Milosovic ci è morto prima della fine del processo, va con Dio, vuol dire che proprio con Dio, ecco, è morto prima, però tutti gli altri sono stati arrestati e sono passati in giudizio, ricordatevi che è tutta gente che non ha commesso, non ha mai ucciso nessuno, è tutta gente solo che ha deciso al tavolo quello che si doveva fare. Ma questi sono stati condannati, abbiamo avuto dei ministri che sono stati condannati per violenza carnale, naturalmente non sono i ministri che hanno violentato, ma l'organizzazione, la pianificazione e l'esecuzione di questi crimini. Quindi, grande successo e quando poi io sono rientrata dal periodo di ambasciatore, per il periodo di ambasciatore, adesso ho detto fra noi, fantastico, per rapporto a quello che facevo prima è stata una vacanza, sono stati tre anni e mezzo di vacanza ben pagate in più, perché il mio stipendio di ambasciatore era il doppio di quello da procuratore generale del Tribunale dell'ONU, quindi ve l'immaginate, stavo benissimo. Quindi sono rientrata, ma pensavo, ecco, adesso, bene, adesso sono nonna, mi dedico ai nipotini, posso giocare un po' di più a golf, eccetera, eccetera. E poi arriva questa commissione, no? Cioè, da me è sempre arrivata per un telefono da Berna, un telefono da Berna, un telefono da Berna che mi dice il procuratore generale della Confederazione. Io dico di sì, però non mi danno mai il tempo di riflettere o di andare a vedere bene a cosa vado incontro. E questo è meglio, no? Perché altrimenti magari avrei detto di no. È la stessa cosa per il Tribunale dell'AIA. Kofi Annani, il segretario generale, mi dice, l'avevo incontrato a New York, mi dice, guarda Carla, sono a Ginevra fra una settimana, mi dice se sì o no. Naturalmente in una settimana non ho il tempo di andare all'AIA a vedere cosa succede, eccetera, l'unico mio elemento era dire, vabbè, sono procuratore, rimango procuratore e boh, è così. E poi naturalmente avevo la presidente Ruth Dreyfus, presidente della Confederazione, che mi ha fatto una pressione fortissima, affinché accettassi. Perché in fondo io non volevo, stavo bene come procuratore generale a Berna, e quindi perché devo andare all'AIA, a stare di casa all'AIA, in Olanda. Al che la pressione è stata forte, e per cui ho detto di sì. Comunque, arriviamo alla Commissione, arriviamo al Medio Oriente, arriviamo alla Siria. Io ne sapevo tanto quanto voi, ossia dalla stampa o dalla televisione, quello che succede in Siria, no? e arriva il telefono, arriva il telefono, possiamo proporla come candidata, vorremmo proporla come candidata per questa Commissione ONU che fa le inchieste sui crimini commessi nella guerra in Siria. E allora dico di sì, lì non faccio come ho fatto col Tribunale Internazionale, che dico ho delle chance di essere nominata, e a Berna mi dico no, no, nessuna. Nessuna, perché all'epoca la Svizzera non era nell'ONU, non era nella Nato, e quindi non ho nessuna chance, ma fa bene alla politica estera svizzera di avere un candidato. Ecco, qui non ho chiesto, perché in effetti, in fondo non è che mi importasse veramente, l'unica cosa che ho chiesto, quanto dura la Commissione, questo lavoro per la Commissione? E mi dicono dai tre agli otto mesi. Dico va bene, allora facciamolo, no? Tant'è vero che ero consapevole che chi in Svizzera aveva la maggiore esperienza per le inchieste su questi crimini, naturalmente ero io. Va bene, sono rimasta cinque anni. Attenzione, senza stipendio, eh, perché non lo si dice, perché non è bello dirlo, ma io invece lo dico, perché senza stipendio, e solo le spese pagate, che poi all'ONU si chiama DSE, no? Sussistenza giornaliera, ed è sempre meno di quella che in effetti, no? C'è bisogno, a meno che vai a dormire in un albergo tre stelle invece che uno di quattro, che lo so io, ecco. Comunque, cinque anni sono rimasta lì e ho scritto il libro per liberarmi di questo peso che mi sono portata per cinque anni. Questo è stato la, la, proprio, il falimento totale, il falimento totale delle istituzioni internazionali nel combattere, nel combattere, eh, quelli che sono, eh, i crimini che vengono commessi, eh, in questo mondo. Eh, la Siria è veramente, è veramente l'esempio del falimento totale della comunità, diciamo, della comunità internazionale. Ed io ci sono cascata dentro, in pieno. Ossia, sono andata per cinque anni, cercando di ottenere giustizia per le vittime, cercando di, di far sì che il Consiglio di Sicurezza istituisse un tribunale internazionale, anche per questi crimini, che sono tantissimi, non c'è stato niente da fare. E ve l'assicuro che l'esperienza ce l'avevo. Quindi, eh, Consiglio di Sicurezza, Assemblea Generale ONU, io avevo un ufficio al trentaseisimo piano del, del palazzo ONU, perché ero sottosegretario generale dell'ONU, come procuratore generale della, tribunale internazionale, quindi conosco la macchina, conosco, eh, lo strumento, non ci sono riuscita. Ve l'assicuro che, tanto è stato un successo la, la giustizia internazionale, per il tribunale internazionale dell'AIA, tanto è stato un successo, sia sul Rwanda, che sulla ex Yugoslavia, tanto, tanto è stato un fallimento, questa situazione sulla Siria. Totale impunità, nessuno vuole giustizia per questi crimini, nessuno la chiede, nessuno la vuole. Credo che io sono l'unica, ed è per quello che ho scritto questo libro. Me ne sono un po' liberata, in fondo, eh, perché, eh, non porto responsabilità, o non ne porto più, però qui, qui, ve l'assicuro, c'è il più grande atto d'accusa, contro l'ONU, e la comunità internazionale. Le faccio una domanda, falsamente ingenua, perché è fallita, perché la comunità internazionale, l'ONU non vogliono, o non hanno potuto, o non possono, o, eh, occuparsi, del, e non vogliono occuparsi, appunto, dei responsabili, dei crimini, che sono stati comunque accertati a più livelli, in primo luogo, anche dalla vostra commissione. Vedrete, quando leggerete il libro, per chi l'ha già letto, che comunque c'è una descrizione dettagliata, di quelli che sono, purtroppo, i crimini, le torture, che riguardano tutte le guerre, le guerre più orrende, che hanno interessato, anche negli ultimi anni, diciamo, le guerre non sono mai belle, ci sono delle modalità, anche, come lei conosce meglio di me, di, appunto, di tortura, che sono comuni a varie guerre, cioè, vengono imprigionate, delle persone, non si sa perché, non si conosce più il loro nome, non si sa che fine fanno, forse riescono, forse no, ci sono vari elementi. perché l'ONU fallisce in questo, perché non c'è questa volontà, a livello interna, della comunità internazionale, di risolvere questi, lei ha usato il termine giusto, la volontà, e io aggiungo, alla volontà, la volontà politica, ossia, noi abbiamo potuto, nella ex Jugoslavia, ottenere giustizia, per il Rwanda, perché c'è la volontà politica, ossia, gli stati sono d'accordo, in particolare, gli stati membri del Consiglio di Sicurezza, invece, per la Siria, questa volontà politica, proprio, non c'è, ossia, gli interessi sono altri, e quindi, quando gli interessi sono altri, altri interessi politici, la giustizia, è l'ultima, che viene presa in considerazione, quindi, l'ex Jugoslavia, se fatto, perché l'ex Jugoslavia, l'Eugoslavia è in Europa, è qui, e naturalmente, d'accordo gli americani, perché, non dimenticate che gli americani, sono quello che danno il la, alla questione, sia per l'ex Jugoslavia, che per il Rwanda, adesso gli americani, non li consideriamo più, perché adesso, con Trump, proprio la giustizia, neanche esiste la giustizia internazionale, poi non ne parliamo, quindi, gli americani, l'America non fa più niente, l'America culla, dei diritti umani, la culla dei diritti umani, Roosevelt, la moglie di Roosevelt, presidente Roosevelt, loro hanno messo in piedi, quello che è stata veramente, la grande dottrina, dei diritti umani, adesso, non esiste più, quindi, via gli Stati Uniti, la Russia, avete visto, la Russia, naturalmente, sostiene la Siria, sostiene Assad, perché è il suo porto sul Mediterraneo, quindi, politicamente, è importante che lei tenga, tenga questo, e poi dopo, i paesi arabi, i paesi arabi, allora lì abbiamo, tutta una panoplia, di paesi arabi, chi sostiene, gli oppositori, chi sostiene, il regime, del Presidente Assad, per cui, questa guerra, continua, e adesso speriamo, che arriviamo, comunque, alla fine, ma questa guerra, continua, perché c'è sempre chi, chi funziona, nei finanziamenti, a questa guerra, perché una guerra, non può durare sette anni, siamo il settimo anno, non può durare sette anni, se non c'è chi, fornisce armi, chi fornisce, finanziamenti, eccetera, eccetera, che si possa continuare, la guerra, quindi questa guerra, è una guerra, a interessi politici, per cui, la giustizia, non se ne preoccupa, proprio, nessuno. E appunto, lei ha nominato adesso, queste fazioni, diciamo, anche questa frammentazione, ed è interessante, perché appunto, sappiamo, più o meno, chi è che sta dietro, le varie fazioni, però appunto, disuniti da una parte, finanziati, sappiamo da chi, e il regime, dall'altra, e di fatto, in un passaggio del suo libro, che mi ha colpito, è che in questa guerra, comunque, lei scrive, a un certo punto, non è distinguibile, non si vede, la differenza, tra i buoni e i cattivi. Diciamo che queste distinzioni, poi, tra i buoni e i cattivi, restano un po' più, nell'immaginario, che nella realtà, e soprattutto, nella realtà, delle guerre, ma in questo caso, in effetti, c'è il regime, di Assad, ma è anche vero, che anche l'opposizione, non è, diciamo, una posizione, delle più presentabili, per utilizzare un eufemismo, che cosa ha visto, in effetti? Io ho visto cose terribili, cose terribili, da parte del regime Assad, le cose più gravi, sono i detenuti, allora, si è tratti in arresto, per niente, e dopo, le famiglie, le famiglie, degli arrestati, coloro che sono in arresto, non ne sanno, dei detenuti, non ne sanno più niente, allora, io parlavo con l'ambasciatore siriano, a Ginevra, per far sì, dico, ma date almeno notizie, no? Di questi, di questi loro familiari, dove sono detenuti, eccetera, e non è mai, naturalmente, non ha avuto nessun successo, e poi si è scoperto che invece c'erano delle torture, perché uno dei fotografi della polizia siriana che fotografava, perché oltretutto, si vantano, no? Si vantano di queste atrocità, e quindi ha fotografato, no? E identificati i corpi, che perché qui la tortura non veniva fatta, ti torturiamo perché così muori, ti uccidiamo, come avveniva in altre parti del mondo, qui la tortura viene eseguita per farti soffrire il più a lungo possibile, prima che muori, quindi ti teniamo in vita tanto, ma tanto tempo, torturandoti, però non ti uccidiamo, aspettiamo che tu muoia per ovvio, quindi ci sono state delle cose tremende, il famoso rapporto Cesare, Caesar Report, che da tutta questa, è stata un'inchiesta che abbiamo fatto, terribile. Dall'altra parte, e dall'altra parte, quando poi, perché prima venivano chiamati gli oppositori, gli oppositori moderati, questi oppositori moderati sono presto spariti, perché naturalmente sono fuggiti, eccetera, quindi gli oppositori sono diventati ribelli, questi ribelli sono diventati sempre più radicalizzati, e poi l'Isis, e poi al-Nusra, e poi così, e io devo dire, e il governo siriano ci riforniva appunto le prove dell'atrocità che venivano commesse, noi abbiamo anche, perché non abbiamo preso tutto così per buono, anzi, normalmente non ci si credeva, e quindi facevamo queste inchieste, io devo dire, ho visto degli episodi incredibili, incredibili, un ragazzino di 12 anni, 12 anni, perché palestinese è stato decapitato, e lui lo sapeva, io vi assicuro che il video, il video dove si vede la faccia di questo ragazzino che sa che sta per essere ucciso, perché gli prendono i capelli e gli tagliano la testa come fosse, ecco, io ho conosciuto la mamma di questo bambino, e abbiamo fatto un'inchiesta, ed è effettivo, e sappiamo anche chi l'ha ucciso, dei ribelli, però non c'è tribunale, non c'è nessuno che può, però l'inchiesta l'abbiamo fatta, abbiamo preparato, ho preparato un atto d'accusa, l'abbiamo mandato al Consiglio di Sicurezza, non succede niente, e questo era uno dei casi che abbiamo fatto, un caso di genocidio abbiamo avuto, i jazidis, i jazidis era una comunità che viveva in Iraq, su una montagna in Iraq, no? Lì sono arrivati i terroristi dell'Isis, hanno portato via tutte le donne, o quasi, le hanno vendute ai terroristi dell'Isis in Siria, allora sono state portate in Siria, perché noi avevamo giurisdizione solo sulla Siria, no? Queste ragazze, queste ragazze, queste donne, vendute, no? Vendute, violentate continuamente, eccetera, insomma, abbiamo fatto un'inchiesta che è durata diversi mesi, avevamo tutte le prove, è un genocidio dei jazidis, ci siamo detti, ah qui, la comunità internazionale dovrà fare qualcosa, abbiamo scritto questo atto d'accusa, l'abbiamo anche lì mandato, perché è il Consiglio di Sicurezza che deve decidere, allora, come il Consiglio di Sicurezza riceve questo documento, tutti scandalizzati, ci vuole giustizia, non è successo niente, allora, voi capite che io dopo cinque anni di battaglie, ero a New York, ero a New York, il mese di febbraio dell'anno scorso faceva, di due anni fa, faceva un freddo tremendo, sarei stati meno, non so, meno dieci gradi, oh, freddo, a New York, una cosa, a cercare giustizia per queste, non è stato possibile, io mi sono detta, mo' basta, dopo cinque anni, allora, Festival del film di Locarno, Festival del film di Locarno, mio figlio direttore, no, direttore amministrativo, mi telefona mamma, che c'è? Ah, avevamo il direttore della Ginevra, dell'ufficio dei diritti umani che doveva venire, adesso non può più venire, lo puoi, puoi venire tu al suo posto, quindi, ersatz, no, siccome non ce l'avevano più nessuno, allora la bella del ponte può andar buona, no? Allora io dico, ma figlio va bene, naturalmente, per dargli una mano, non lasciarli, no, non lasciarli soli, vado, però dico, adesso qui cosa faccio? Vado e annuncio le mie dimissioni, che così, ho una bella, ho una bella, no, piattaforma, una bella piattaforma per dare le mie dimissioni, e infatti così, tutta la stampa del mondo ne ha parlato, perché l'ho fatto, la dimissioni? per protesta, no, giustizia per le vittime, non è successo niente, non è successo niente, io avevo detto ai miei collaboratori nella commissione, dico, diamo le dimissioni tutti assieme, no, tutta la commissione, massi, massi, e tutta gente di 70 anni e più, e stanno belli, contenti, nel posto di commissione, viaggiano a gratis, perché almeno i viaggi l'ONU li paga, no, ecco, e allora che vogliamo andare a dimissioni, ma Carla, ma dai, così, io ho dato le dimissioni tutta sola. E quindi, diciamo, dopo questa esperienza, ho due domande da farle, la prima è, secondo lei, comunque, un atto anche individuale, ha valore, per, come dire, in qualche modo, sensibilizzare chi non vuole essere sensibilizzato. In questo caso, sicuramente, sarebbe stata più efficace una dimissione dell'intera commissione, perché sicuramente avrebbe creato comunque una reazione, un vuoto, e invece poi è stata sostituita e pare che le cose continuino come se non ci fossero state nemmeno queste problematiche. Questo, io sono convinta che anche un atto individuale abbia importanza, immagino che lo abbia in parte anche lei, se forse non l'avrebbe fatto, a parte la stanchezza. Per me ha importanza, e come? Per me ha molta importanza. Io sono contenta, sono fiera di quello che ho fatto, però, naturalmente, senza nessun effetto, è vero, è stato nominato un signore egiziano al mio posto, il quale non fa assolutamente niente, se non aprire la bocca ogni tanto, ma lo sapete, al Consiglio dei diritti umani ONU-Ginevra, no? Ve l'immaginate, non so più quanti paesi sono rappresentati. Consiglio dei diritti umani. La metà degli stati rappresentati in questo Consiglio dei diritti umani viola i diritti umani tutti i giorni. Allora, mi dite a cosa serve? Mi dite, noi passavamo due volte all'anno con i nostri rapporti, ogni sei mesi facevamo un rapporto e dovevamo apparire davanti al Consiglio dei diritti umani. Bla, 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 bla. Si parla, si parla e non si dice niente. Poi, si alzava l'ambasciatore siriano, il quale, no? Contro di noi, tutte cose assurde. Venezuela anche, Venezuela, che adesso vedete Venezuela come sta vivendo. Ecco, Venezuela era sempre a lato della Siria, quindi sosteneva la Siria, no? Gli americani, a seconda di come girava, no? Perché abbiamo visto tre presidenti, quindi, no? Però, per dirvi, no? Sono burocrazie, però non si arriva niente, niente di niente. Quindi, secondo lei, un'istituzione come l'ONU dovrebbe essere, in qualche modo, riorganizzata, ristrutturata, pur mantenendo un ruolo importante, perché è necessario avere delle istituzioni che, in qualche modo, siano super partes, se è possibile, quando è possibile. L'ONU è importantissima, un'istituzione importantissima, è solo che adesso, se non la si riorganizza, andiamo a finire male. Perché? Attualmente, ci sono, solo a New York, ci sono 4.000, passa 4.000 funzionari. Io ve l'assicuro che su quei 4.000 funzionari che ogni mattina vanno alle 9, perché si comincia alle 9, all'ONU, non alle 8, alle 9. Allora, quelli che cominciano, che vanno nell'ufficio alla mattina alle 9, la metà di quei funzionari non fa un bel niente. e questo ve lo posso assicurare io, perché ero là e lo so cosa fanno. Non fanno niente. Arrivano alle 9, alle 10, vanno a bere il caffè, chiacchierano, perché altrimenti i corridoi sono tanti, la gente, c'è tanta gente che circola all'ONU. Se lei può entrare e può assalire le... Ma si può passare la giornata a chiacchierare con tutti, perché è tutta una novità, tutti gli stati, eccetera. No, è una cosa incredibile, incredibile. Per cui, se non si può riorganizzare, perdiamo tutta la nostra credibilità. Cosa fa l'ONU adesso? Fa aiuto umanitario. Fa aiuto umanitario ancora è fatto un po' così, ma soprattutto non fa l'azione politica di pace, perché uno dei mandati dell'ONU più importanti è proprio quello della pace e della democrazia. Mi sapete dire cosa fa? Non fa niente perché non ha gli strumenti e perché non lo si vuole fare. Prendiamo la Siria. Voi sapete che la Siria ha avuto il suo rappresentante speciale, per cercare di ottenere la pace in Siria. Il primo era Kofi Annan. Kofi Annan, dopo neanche un anno, ha dato le dimissioni. Questo voleva dire che bisogna cambiare sistema. No, si è andati avanti, finito di prendere il Kofi Annan, si è preso un certo Berami, arabo, bravissima persona, eccetera, eccetera, che però si sapeva sin dall'inizio che non può fare niente. Quello, anche lui ha dato le dimissioni. Allora, adesso prendiamo il Demistura. Demistura, che è un'altra, sono quelle, sapete, sono quelle creazioni ONU, uno entra all'ONU quando ha 20 anni e resta fino a 90, no? Ecco, no, poteva andare prima in pensione, però finché va in pensione resta all'ONU, cioè, no? Ecco, sono quelle figure ONU. Demistura, che è una persona assolutamente, intanto simpatico, poi dignitoso, eccetera, ha tutta l'esperienza, è così, però lo si sapeva sin dall'inizio che non poteva ottenere niente, no? Allora, invece che cambiare, cambiare il sistema di approach a questa situazione impossibile, no, si continua così. No, guardate, potrei parlarvene per ore, sull'incapacità dell'ONU di riuscire a fare qualcosa di veramente, di veramente. Abbiamo pensato, perché quando, no, hanno cambiato il segretario generale che doveva essere una donna e allora noi eravamo tutti felici, una donna, sarebbe proprio, no? Bello, che sia una donna, ma sì, ma sì, è ancora un uomo, lì, bello, tranquillo, ogni tanto dice qualcosa, l'altro giorno era Ginecola, ha detto, ma che bello, ma che bello, aiuto umanitario per 3 miliardi, che belli, che bravi, ma non è quello che dobbiamo fare, quello lo si fa sicuro, è importante, però la pace, la pace nel mondo, lo Yemen, lo Yemen, è un problema, Sudan, senza contare i paesi africani poi, ma lo Yemen, la Siria, e tutti gli altri, non si fa niente, io trovo che, ma adesso poi, non ne parlo più, male, non parlo male dell'ONU, perché l'ONU è importante, quindi dovrei parlarne bene, purtroppo non posso, ma ho comunque la speranza che si riesca, un giorno o l'altro, perché adesso abbiamo toccato il fondo, e di solito quando si tocca il fondo, poi dopo si riemerge, no? In tutte queste situazioni, speriamo, quindi io mi metto da parte, e attendo, e attendo il riemergere, e non so quando arriverà, ma cosa avete detto voi, il caos, uscire dal caos, ecco, io aspetto l'uscita dal caos, non la vedo neanch'io, ma ci sarà, ma ci sarà, perché è sempre stato così nella storia, quindi dovrà pur continuare. Le faccio un'ultima domanda, poi lascio anche la possibilità ai persone di farle qualche domanda, lei ha ricevuto nel 2013 un invito importante da Bashir al-Assad, al quale poi non le hanno consentito di rispondere positivamente, ma che cosa avrebbe detto a Bashir? Sì, era una situazione veramente, era l'unica possibilità che avevamo. Allora, intanto io purtroppo non ero presidente della commissione ONU, quindi il presidente era un professore brasiliano, anche lui simpatico, ma che non voleva mai dar torto a nessuno, e quindi molto diplomatico, dico, no Carla, no, questo no, questo no, questo no, perché tu sei il procuratore, no, ma qui noi no, biba, perché io dicevo, mettiamo nero su bianco gli stati che aiutano questa guerra in Siria. Il problema è stato che anche molti dei membri della commissione non erano esperti di questo genere di... Vabbè, ma indipendentemente da quello... dicevo, tra le altre cose c'era anche questa dimissione, certo, mettiamo nero su bianco il nome degli stati, e no, non si può, non si può, perché se dobbiamo cominciare dagli Stati Uniti e dalla Russia, ovvio che non andava bene politicamente, no? Ecco, niente, quando abbiamo potuto fare qualcosa, era dopo litigate a più finire, dove poi mettevamo in votazione, io se riuscivo ad avere gli altri, eravamo quattro commissari, se riuscivo ad avere gli altri due con me, la maggioranza da me, e quindi la cosa passava, ma naturalmente il più delle volte il presidente. Quindi, armi chimiche, l'utilizzo delle armi chimiche. Allora, gli americani hanno detto, è il regime di Assad. noi avevamo iniziato le inchieste, e gli unici elementi che avevamo, erano che i ribelli avevano utilizzato armi chimiche. E proprio in quel periodo lì, un giornalista mi interroga, e io dico la verità, apri di gelo. Allora, il presidente della commissione non fa una smentita perché non può, perché sa anche lui che è così, però fa una dichiarazione così un po' all'acqua di rose, come dire, ma dobbiamo ancora finire l'inchiesta, eccetera. Naturalmente gli americani, Obama che aveva detto linea rossa, eccetera, non gli andava bene, perché a lui gli andava bene che fosse Assad, invece all'inizio non era Assad. Tant'è vero che in Turchia erano stati arrestati gente, appunto ribelli siriani, che avevano del gas sarin con loro. E allora io sono andata in Turchia per parlare appunto con l'autorità turca, perché a me andava bene di avere quella prova. E allora mi hanno detto, no, 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 lei non può averla perché non è più procuratore, quindi non è più un'autorità giudiziaria, quindi lei non può avere quelle prove lì. Quindi armi chimiche, armi chimiche, alla fin fine tutte e due le parti le hanno utilizzate, sia Assad sia i ribelli. Tutte e due hanno utilizzato armi chimiche, anzi di più Assad, secondo poi le nostre inchieste, ma i primi che le hanno utilizzate sono stati i ribelli. Comunque, cosa gli avrebbe chiesto? Ah, ecco, e quindi io quando, siccome io questo l'ho detto pubblicamente, ecco che il regime di Assad, il presidente Assad, mi fa sapere che mi invita a Damasco, però nella mia capacità personale, non come membro della commissione, nella mia capacità personale. Allora io dico agli altri commissari, va benissimo, lasciatemi andare, che così creiamo comunque un contatto, perché naturalmente, vado là mica a dire, faccio le inchieste su di lei, presidente, però le armi chimiche, usate dai ribelli, a me andava bene di avere la cooperazione di Assad, e su altri crimini commessi, dico cominciamo così, che così abbiamo l'aggancio con il regime di Assad, e poi dopo, una volta che metteremo piede a Damasco, il presidente della commissione ha detto no. Ah sì? Allora io ho tentato di far cambiare idea, ma non l'ha cambiata, quindi non sono potuta andare. Dopo tre anni, o che mi ha detto, Carla adesso puoi andare a Damasco se vuoi, non mi hanno più invitata. Allora adesso su questa nota, lascerei la parola a qualcuno di voi che vuole fare le domande, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Sì, giù in fondo abbiamo una mano alzata. Sì, giù in fondo abbiamo una mano al tribunale internazionale sul Libano. Sì, giù in fondo. Sul Libano? E mi stupisce che sia ancora in vita il tribunale internazionale sul Libano, perché da quanti anni? Sono anni e anni che è in funzione e non ha ancora uscito un atto d'accusa che possa veramente essere, non c'è stato processo, non ci sono processi, non c'è cose. E sì che conosco molto bene il procuratore del tribunale del Libano che lavorava con noi al tribunale della ex Jugoslavia ed era un bravissimo giurista, veramente fantastico, canadesi. Quindi il tribunale del Libano anche lì continua senza che, secondo me, non avrà una gran vita ancora. Perché lì la grande cosa è, come si chiama, Harari, che è stato ucciso, il primo ministro. E lì, Hariri, ecco, e lì bisogna arrivarne a una, bisogna riuscire a trovare le prove. Perché se non si trovano le prove, come in tutte le case, bisogna, purtroppo, non è che si arriva sempre a trovare la verità. Però, non ne so più di quel tanto, so solo che la detta stampa del tribunale del Libano era a detta stampa al tribunale della ex Jugoslavia negli ultimi anni. Quindi ha lavorato con me, la Olga Kavran, e adesso era a detta stampa al tribunale del Libano ma non c'è niente da fare. Sì? Franco Riti. Mi raccomando, sì, non dobbiamo mai parlare male dell'ONU, perché comunque qualcosa ha fatto, qualcosa fa, e infatti sono contento che appunto lei lo puntualizza. Soprattutto perché l'ONU non è purtroppo democratica, è governata dagli stati, stati nazionali ovviamente non hanno intenzione di lasciare un po' di potere nazionale e quindi sicuramente non si andrà avanti. Lei però che è stata dentro, che conosce bene l'ONU, mi raccomando, non faccia la pensionata, faccia invece una battaglia per far sì che l'ONU vada verso una direzione di risorse proprie, di democrazia, di abolizione del diritto di veto, perché comunque non si può avere un Consiglio nazionale che ha cinque stati diritto di veto. Un'altra battaglia che bisogna fare è quella di fare in modo che l'Europa sia presente in questo Consiglio di sicurezza e non invece ogni singolo stato, Francia, Gran Bretagna, eccetera. Quindi, secondo me, se si va verso questa direzione si può fare tanto, si può fare molto, si può fare meglio e sicuramente lei che è dentro può fare tanto veramente perché ha lo spirito critico e come diceva giustamente non bisogna parlare mai dell'ONU ma invece bisogna valorizzarla. Sì, sono d'accordo con lei, però io purtroppo quello che potevo fare ho tentato di farlo, non ha. Sono gli stati che devono agire, cioè sono i nostri governanti, cioè la Svizzera sicuramente fa quello che può ma naturalmente non dimenticate che la Svizzera è un paese piccolino piccolino che conta poco, 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 se non per certe specifiche cose però è vero l'ONU è importantissimo ma attualmente si trova in una situazione disastrosa, in uno stato disastroso in fondo perché non riesce, non riesce, non riesce. Niente, però sono d'accordo con lei, importantissimo. Sì. È una domanda un po' fuori, però che lei ha vissuto in questo mondo, cosa pensa della Turchia? Non può dare che non pensi niente. Come no? Certo che penso della Turchia. Allora, prima che io andassi alla commissione, la Turchia, niente, era un paese un bel paese, in fondo, Istanbul, una bellissima città, eccetera, eccetera. Quando abbiamo cominciato a lavorare nella commissione siria, la Turchia è il paese più puttana che io abbia mai conosciuto. Questo per dirla, per farla capire a tutti, eh? Cioè, tutti gli atteggiamenti possibili. Allora, all'inizio, questo presidente, no? Erdogan, come si chiama? Lasciava, lasciava entrare tutti, tutti i terroristi, tutti i foreign fighters, no? Atraverso, e soprattutto lasciava entrare le armi. Tutte le armi, tantissime armi sono entrate attraverso la Turchia. Allora, lui era contro Assad e quindi era con i ribelli e con gli ebrei. Allora, dopo è cambiato, è cambiato, si è alleato con Putin, si è alleato con Putin e quindi anche con Assad che prima combatteva. Perché? Perché la Turchia ha il problema dei kurdi. La Turchia ha il problema dei kurdi perché i kurdi in Siria che sono bravissimi combattenti e sapete cosa? Le donne combattono, le ragazze giovani combattono perché se un arabo di questi terroristi viene ucciso da una donna non va più lì nel paradiso degli arabi e quindi hanno addestrato io le ho conosciute bravissime sono dei combattenti le donne in fondo sono proprio brave e quando ci si mettono sono brave dei combattenti bravissimi anche gli uomini sono brave quindi hanno liberato hanno liberato una città Kobane che era una città in mano ai terroristi se voi sapeste come no quindi i kurdi e naturalmente hanno hanno conquistato tutto il nord del paese naturalmente il presidente della Turchia ha noi ha noi perché già questi sono terroristi per loro perché loro il PKK eccetera eccetera quindi cosa hanno fatto? cosa ha fatto la Turchia? è entrata in Siria a combattere i kurdi e naturalmente naturalmente non sono riusciti non sono riusciti però la comunità internazionale ONU silenzio non si dice niente che invece qui la Turchia aveva veramente veramente violato il diritto internazionale perché era entrata sul territorio siriano a uccidere i kurdi ma non si è sentito niente allora si immagina si immagina io poi che già ero andata per le mie armi chimiche e già mi avevano messo alla porta o quasi perché non mi hanno dato niente si immagina lei che simpatia avevo io ho conosciuto il ministro degli affari esteri ho conosciuto diversa gente e mi ricordo che avevano la prima volta che sono andata avevano lì un gruppo di serbi di funzionari serbi che naturalmente mi hanno riconosciuto dalla guerra di prima no per cui me ne sono andata più in fretta possibile no guardi a Turchia è incredibile che peccato perché poi è un posto meraviglioso un paese meraviglioso ma adesso con quel presidente è diventato perché poi lui all'inizio teneva tutti gli oppositori i ribelli li teneva tutti lì infatti noi andavamo lì a Istanbul o a Ankara per incontrarci con gli oppositori perché avevano lì tutte erano appunto era appunto il regime turco che li che li sosteneva e così ma dopo da allora via tutti quindi se l'immagina lei a seconda di adesso non so come vada oggi come oggi ma allora seguivamo molto da vicino peccato peccato sì ne avrei dieci di domande in realtà ne faccio una proprio direi il succo della questione allora mi sembra che tra l'Aia si siano processati i burattini non i burattini ma a prescindere da questo qualora saltasse fuori già in parte è saltato fuori che le armi dell'Isis sono medi nell'Europa America eccetera eccetera ma lei pensa davvero che siamo in grado di accusare gli Stati Uniti d'Americo o Israele che ha credo delle atomiche siamo in grado se saltassero fuori delle torture famose americane no Guantanamo eccetera eccetera delle torture di Trump siamo davvero in grado noi di mettere alla sbarra gli Stati Uniti ma io le voglio dire questo quando c'è stata la volontà politica di un tribunale internazionale si sono messi alla sbarra però perché c'era la volontà politica il presidente del Sudan è sottomandato d'arresto internazionale non è mai stato arrestato però è sottomandato d'arresto se non c'è volontà politica non è possibile io dico se domani io lo dicevo agli Stati sono andato a Mosca e ho detto al ministro a Mosca voi fornite armi a Assad se domani c'è un tribunale internazionale voi potete essere complici nella commissione di crimini perché sapete che queste armi vengono utilizzate per commettere dei crimini ecco facile no? facile dirlo ma difficile ottenerlo perché il tribunale non c'è però questo per dirle che non è impossibile non è impossibile però naturalmente naturalmente legalmente è possibile ma de facto infatto naturalmente chi ha il potere politico decide o economico politico o economico vabbè io nel politico nel politico metto anche l'economico sì 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 tutte e due sì 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 no ma ha ragione ha ragione è quasi un'utopia però bisogna crederci che la giustizia internazionale può può se c'è la volontà politica se la si lascia se la si lascia lavorare è possibile è possibile sì sì buonasera io avrei una domanda riguardo a quello che avviene dopo la giustizia lei prima ha detto che insomma per quanto riguarda la situazione dei Balcani abbiamo avuto un esempio di successo della giustizia insomma internazionale però c'è stato poi un evidente problema nel trattamento del passato perché giustizia è stata fatta ma poi gli stati comunque coinvolti hanno fatto un lavoro abbastanza pessimo in termini di non lo so di educazione di scrittura della storia eccetera eccetera insomma abbiamo visto anche quest'estate durante il mem produzioni cinematografiche che mostrano che nei Balcani malgrado giustizia sia stata fatta la situazione è tutt'altro che risolta è tutt'altro che ecco e quindi odio etnico e io volevo chiederle lei come vede la situazione della Siria dove cioè non abbiamo avuto giustizia e quindi cioè come vede il futuro del trattamento del passato della prise en charge del dealing with the past naturalmente siccome non c'è io devo dire che quando leggo che gli stati europei rifiutano di prendere i terroristi che erano immigrati in Siria per combattere commettere crimini non li rivolgono più io capisco capisco e come però dico allora facciamo un tribunale internazionale il tribunale internazionale che potrà occuparsi di tutti questi terroristi colpevoli di crimini e ce ne sono veramente tanti potrà occuparsene e occuparsene anche dopo il giudizio penale cioè ecco naturalmente lei ha ragione non è che la giustizia è solo uno dei contributi e infatti nel mandato che abbiamo ricevuto come tribunale dell'ex eukoslavia non è che ottenendo giustizia si ottiene la pace la democrazia è un contributo ma è un contributo importante sicuramente è solo che è solo un contributo e poi naturalmente le autorità nazionali devono provvedere ma è vero che non siamo ancora lì e chissà ci arriveremo perché nonostante tutto c'è comunque la pace c'è comunque pace perché abbiamo visto cosa è successo all'epoca Milosevic quindi oggi come oggi ma naturalmente quando vedo l'attuale non so se presidente o primo ministro Vukic che io l'avevo conosciuto ma è un nazionalista è uno che ancora c'ha ancora le idee ogni volta che mi vedeva era un improperi contro di me eccetera per cui quello adesso ha comunque una funzione quindi cosa vuole che apporti il suo elemento di pace e democrazia quando lui c'ha nella testa solo l'odio degli altri la stessa cosa a Radinai scusate ma a Radinai che noi l'abbiamo fatto condannare a non so più quanti anni poi dopo in appello è stato assolto Dio solo sa io non c'ero già più purtroppo comunque è stato assolto adesso è primo ministro nel Kosovo no ma allora come volete che queste autorità adesso portino pace e democrazia però anche qui bisogna crederci bisogna crederci passo passo ci si arriva la giustizia dà il suo contributo purtroppo è quello che è però appunto in Siria nemmeno si autorizza che ci sia almeno questo contributo io spero ancora che arrivi vediamo sì vediamo speriamo nella pace innanzitutto ma nella giustizia perché non c'è pace senza giustizia buonasera signora buonasera politica stati ONU e presidenti che opinione ha dell'opinione pubblica di noi rispetto a tutti questi temi ma non so forse non capisco la domanda la passo a nel senso che ci sono i politici gli stati l'ONU ognuno la pensa in modo diverso ha le mani legate può fare ma la gente comune dal suo punto di vista riesce a fare qualcosa c'è una pressione da parte dell'opinione pubblica rispetto a queste cose che può aiutare sì no c'è molta sensibilità c'è molta sensibilità nell'opinione pubblica nel contatto così io ho fatto molti molte conferenze in Europa in Germania in Francia sono stata anche a Londra eccetera c'è molta sensibilità molta comprensione molta molta però naturalmente si sa che gli unici che possono veramente fare qualcosa sono le autorità nazionali non è che 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 noi possiamo fare qualcosa non è sì tutt'al più possiamo andare fuori in piazza e fare una manifestazione che però non serve a niente perché tanto comandano loro e e decidono loro eh però è importante che l'opinione pubblica segua sia sensibile e si manifesti che si manifesti con 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 articoli di stampa con è importante cioè che il problema sia attuale sempre purtroppo però non c'è molto non c'è molto perché spesso mi chiedono cosa possiamo fare cosa possiamo fare noi cosa possiamo fare cambiare la testa ai politici a chi no a chi governa voi io ho provato con i russi ma proprio non ci sono riuscita e sì che io il ministro Lavrov lo conosco da quando ero procuratore dell'ex tribunale dell'ex Jugoslavia lui ancora lui non era ministro era membro del consiglio di sicurezza ONU quindi io lo conosco da lì quindi saranno dieci anni che lo conosco dopo è diventato ministro degli affari esteri ora è ministro degli affari esteri continuo a essere ministro degli affari esteri e c'è un testone proprio russo è impossibile fargli cambiare anche perché poi dipendono interamente da Putin Putin io l'avevo conosciuto anche se sono dieci anni che ministro degli esteri di Putin deve essere ben allineato sì 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 io Putin l'avevo conosciuto perché lui era era membro del servizio segreto no e io quando ero procuratore generale della confederazione ma ditemi voi ero riuscita a fare un un trattato un accordo di cooperazione con i servizi segreti russi ma non era ancora Putin era un altro lui è diventato la prima cosa che ha fatto l'accordo l'ha distrutto e io che ci avevo messo non vi dico quanto lavoro quanti viaggi a Mosca per no e finalmente eravamo riusciti ad avere perché era importante no perché avevo bloccato i soldi i soldi del del chef dell'amministrazione russa soldi da da corruzione adesso non mi ricordo più bene comunque eravamo riusciti a fare questo accordo io ero felice no beata felice perché dico adesso meno male no con il ministro della giustizia Arnold Kohler che mi guardava sempre un po' così con dire questa qua chissà cosa mi combina adesso no perché lui era un politico quindi si diceva sempre uh 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 no cosa mi fa cosa mi fa però lì era contento no quando gli ho detto avevamo sequestrato non so più quanti milioni sette dieci milioni al terrorista Abunidal Abunidal allora proprio non c'entra niente con la Siria ma non so perché mi è venuta in mente allora Arnold Kohler il ministro della giustizia mi chiamano il suo ufficio al palazzo federale del ponte cosa ha fatto qui e dico sono soldi di armi di traffico d'armi della Abunidal che è un terrorista super conosciuto e così oh sì però uh 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 fatto sta che abbiamo fatto un accordo con gli avvocati di Londra che venivano dagli avvocati di Londra che in effetti le mie prove non erano poi così così belle belle però c'erano eh c'erano comunque cosa abbiamo fatto un accordo 5 milioni per la Svizzera e 2 milioni o 3 milioni liberati no perché si poteva fare secondo la legge quindi l'abbiamo fatto ma il nostro ministro della giustizia è la premia non ci contente lui era un po' 5 milioni 5 milioni e lui aveva un po' paura della Abunidal terrorista Abunidal no perché il terrorista Abunidal se veniva a fare un attentato e così per fortuna 6 mesi dopo è morto cioè meno male meno male che la Abunidal è morta così il Kohler non aveva più timore degli attentati dei terroristi ah scusatene ma mi è venuta in mente non so perché mi è venuta in mente questa storia c'è qualche altra domanda allora direi che possiamo ecco comprate il libro allora la signora del ponte io ve lo firmo anche ve lo firmo anche non perdere anche perché ci ha detto che Agnese l'hai comprato non l'hai ancora comprato te lo regalo io c'è qui l'ex presidente del tribunale penale che io saluto perché perché abbiamo abbiamo lavorato tanto assieme eh qui a Lugano allora io regalo il libro alla presidente grazie a tutti Grazie a tutti.